Oggi ragazzi c'è stata un'incensione su Brookhaven, casa di Brookhaven, non andate ma state con i bambini perché lì vi potete rilassare, perché lì i bambini sapiscono, quindi mettetevi alla prova con i bambini. Oggi, oddio, ora come facciamo? Sono in fuori alla casa di Brookhaven! E ora cosa devo fare? Devo fare aiuto, devo fare altre cose, è tipo seppur spenta, non c'è più energia nella casa, non so cosa posso fare. Ah ragazzi, oggi sono veramente stanco e non so neanche cosa fare. Qui c'è il telegiornale che mi sta dicendo che si deve mandare l'incendio di questa casa. E ora dove avrò una famiglia? Delle case ricche? Tipo quella? Questa che è bella, mi sarà piaciuta avere una casa così, ma non ce l'avrò mai. Mamma mia, dove cavolo avrò una casa io? Dove cavolo avrò una casa ricca io? Delle case ricche? 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 Sto farendo, sto farendo, come pensavo, non si può prendere. Anzi, pure questo skate con d'aiuto! Niente posso fare, devo andare a fare parte. E voglio essere adottato, adottato! Non è compito, anzi, quiiaci. Inizio un altro skate con d'aiuto. Tenati, платvi! Sei solo, mi porre, bambini. E solo, mi a tiratterà. Io qui! oggi sono triste ragazzi se non so più cosa fare con l'anima se non pensi la porta è chiusa la porta non si apre la porta è proprio chiusa si è chiusa ragazzi cosa posso farci forse anche più il bambino oh almeno la chiave oh l'ho aperta grazie ho chiamato voglio una mano? eh eh si eh si non la non la oh l'ho famiglia oh l'ho famiglia ok 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 ciao 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 no ah ragazzi oggi sono felice di tutto questo ciao 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 un po' un po' i i i i i i i i i e nessuno oh mamma mia li devo tutti dare a questo piove di cosa almeno sarò più ricco ok 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 acquistati ok via ok andiamo bianco ok 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 un po' devo far buttare la gomma se mi posso... una sera brava quella che incontro sopino non ci sarai insomma penso... hotel qua un hotel posso partecipare con tutti i soldi? è stato lei sicuramente è un intervallo per me non so oh c'è lei e sto aspettando che qualcuno si prende per portarmi si 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 e ci dovrebbe se si 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 4 no e qui dobbiamo fatto oddio si è chiusa la cazza aiuta 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 ahahah con la cazza è una cartina apri il codice si è aperta wow 1,2,3 stella 1,2,3 e accetta wow ok non è male oggi non mi sento oh my god dov'ero? ma lì non è casa mia qui è casa tua diremmo qua ci sono diversi non posso entrare ma di qua si posso entrare ok e qui posso vedere le altre parti e poi devo aprire con la combinazione prendermi i soldi e ce ne ho pochi oltre 26 euro non sono molti tanti come dici oh c'è Emma veloce 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 prima 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 che si costruisca la casa cosa non mi vuole non mi vuole oh beh chiediamoglielo e ho toto e ho toto si è stata brava dai si è stata molto brava ti sei quasi una cosa si muove troppo ah no, ok pensavo che qualcuno vuole essere va bene ragazzi per oggi è tutto invece di cliccatevi a tosto ci sentiremmo in un nuovo video e ciao